Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi oggi oggi voglio dedicare questo video a una nuova arrivata in famiglia e ha dei suoni che la coinvolgono è un po' timida, è qui da neanche una settimana, da sei giorni bisogna mostrare un po' di pazienza con lei, poi secondo me si sta accorgendo di essere un pochino ripresa e volevo approfittare di parlarvi appunto di come l'abbiamo presa e un po' anche dell'adozione di cani in generale poi andremo a usare questa spazzolina e andremo a spazzolare un po' il pelo, è vero? qui sotto ha anche il suo lettino, amore allora oggi voglio un po' raccontarvi di come l'abbiamo presa un po' tutt'una, un po' c'è il timone e si farà un po' anche di trigger con le sue cose tipo la spazzolina e so che ultimamente sto facendo video molto semplici anche se quello di martedì era abbastanza ricercato però volevo davvero farlo perché però volevo davvero farlo perché comunque lei è parte integrante della mia vita e visto che poi ve l'avrei sicuramente menzionata da qualche parte mi sembrava giusto presentarvela allora lei è Ami e se vedete somiglianze dopo ve la riprendo un po' meglio è anche un po' timida secondo me e se vedete somiglianze con la sveva è perché è la stessa razza è un setter inglese e i setter inglese possono essere o bianchi e neri o bianchi e arancioni orange belton si chiamano e lei appunto è un setter inglese orange belton a cinque anni o almeno ne compierà cinque il primo dicembre quindi è già in età adulta assolutamente e come l'abbiamo trovata perché l'abbiamo presa che fine ha fatto la sveva eccetera allora la sveva, il cane che avete visto fino ad ora è il cane dei miei suoceri nonostante io la veda tutti i giorni non è il mio cane non la devo portare io fuori non devo pagare il veterinario non è la mia responsabilità invece lei è proprio il mio cane il nostro cane è il mio ragazzo e quindi tutt'altra cosa volevo davvero avere un mio cane una mia responsabilità l'ho davvero sempre sempre voluto e sono bellissima di essere arrivata a un punto della vita in cui ho abbastanza indipendenza appunto a prendere il cane perché è un altro setter perché io in particolare ma anche il mio ragazzo ci siamo molto apprezzonati alla razza è una razza in generale, almeno le femminuzze molto molto docile che quindi è molto facile ecco da tenere non da problemi con gli altri cani non appaiono particolarmente è una razza proprio tranquilla è una razza proprio tranquilla è chi volando? e come l'abbiamo trovata visto che appunto avrei voluto un altro setter e non lo volevo comprare ma non mi interessava neanche avere un cucciolo perché i cuccioli richiedono un'attenzione ben maggiore e bisogna addestrarli e tutto io non ho le capacità assolutamente di addestrare un cane ho cercato setter rescue setter inglesi rescue su facebook ho trovato diversi gruppi che si occupavano di setter inglesi abbandonati prevalentemente da cacciatori perché incapaci nel cacciare, inabili nel cacciare soprattutto in particolare lei ma anche la sveva hanno paura degli spari quindi giustamente non possono cacciare, non sono adatte anche se comunque lei il senso della caccia ce l'ha perché insegue ogni cosa la vede proprio poco e appunto in questi gruppi facebook c'erano tutti gli annunci per questi setter si trovavano di tutte le età di tutti i colori di tutti i caratteri dal più allegro al più tranquillo si trovano anche dei cuccioli a volte se magari vorreste un cucciolo ma non vorreste comprarlo non lo fareste comunque adottarlo e in particolare il gruppo in cui ha trovato lei si chiama setter inglesi in difficoltà e ha trovato questo annuncio con lei che era appesa alla rete con due occhioni ma due occhioni magari vi metto la foto qui per farvela vedere e appena ho visto questo musino ho capito che dovevo portarmi a casa lei non mi interessava che fosse già più grande ovvio un dispiacere però non mi interessava particolarmente amore vuoi le coccoline perché lei è un po' timida ma le coccoline ne prende volentieri e ha appena fatto la sua seconda corsa del giorno in cortile ed è un po' stanchina è vero Ami Ami si chiama Ami Ami si ami tu chiama Ami amore dopo siamo andate in Toscana la prima volta per vederla e la seconda volta appunto per portarla a casa e tutto ciò è successo praticamente in due settimane e da sabato pomeriggio scorso è a casa nostra e ovviamente si deve ancora un po' abituare è sempre stata in un box quindi si deve abituare alla casa si è molto affezionata al suo lettino fra i divani fra l'angolo del divano e in cortile si diverte tantissimo è super stimolata da uccelli anche veramente tutto in casa a volte a volte fa più la coccola a volte è un po' timida adesso anche sonno e comunque appunto non è ancora abituata proprio allo stare in casa a tutte queste attenzioni eccetera e tutto ciò che voglio dire con questo è che se avete voglia di prendere un cane considerate davvero l'opzione di prenderlo come un canile o appunto adottare un cane perché non c'è nulla di male secondo me a volere un cane di una certa razza perché comunque le razze di solito hanno dei caratteri più o meno ben definiti e non c'è nulla di male e però sappiate che per ogni razza c'è sicuramente almeno un gruppo facebook un'associazione che si occupa di cani di questa razza un po' in difficoltà che sono stati abbandonati e non so prendete davvero in considerazione questa adottare i cani perché danno tanto amore hanno tanto bisogno d'aiuto e amico mamma mia che sciogno quindi adesso facciamo un pochino un pochino di suoni lei intanto sta pian piano crollando perché ha sonno però è anche un po' all'attenti perché non capisce cosa sta succedendo a me mi giuro che di solito è un po' più affettuosa con me mi salta molto addosso e che sono che sono mia sta crollando non so se anche perché io stia sussurrando non so se la rilassi un po' più non so se ciao ammi buonanotte ammi buonanotte ammi buonanotte ami buonanotte patata e volevo un po' anche spazzolarla ma adesso quando si mette buona c'è un lettino stragiato faccio un fruglio allo stile e io sono innamorata di questo musino giusto ieri ho trovato una lucertola in questa stanza perché noi viviamo in campagna a volte arrivano dalla finestra aperta e impazzita completamente la rincorsa che ha staccato la coda vabbè è natura non ci posso fare niente però si a volte impazzisce per queste cose ma come la sfeva non va d'accordo con gli altri cani più che non andare d'accordo non è assolutamente interessata agli altri cani infatti non si considerano molto e la sfeva ha un po' paura insomma vedremo come si svolgerà la cosa vedremo come si svolgerà il rapporto fra me e la sfeva l'importante è che non sia utile non mi dispiace ma va bene così bene cambiamo inquadratura andiamo un attimino a coccolarla la faccio vedere un po' meglio vedremo un po' più Sì Ma la faccio inquietante di quando si addormenta Non capisco se le piaccia o meno Non le dà fastidio perché Dorme però Vedete questo sul lettino L'odore alla follia No, tranquillo Veramente sempre su questo lettino Non ce l'aspettavamo onestamente E adesso le facciamo un po' di cocconine Perdonate prima di tutto La bruttezza delle mie unghie E perdonate in secondo luogo anche la durata di questo video Sarà molto breve ma In questi giorni c'è il trasloco E c'è sempre casino Sempre su e giù Quindi Fra l'arrivo di ami E il trasloco è un po' tutto È un po' tutto È difficile da fare Un momento di silenzio Con anche pochi rumori esterni Quindi Portate pazienza davvero Mi dispiace Io faccio del mio meglio Spero però che vedere Queste coccoline mi rilassi Per me il suo pelo è meraviglioso Tra l'altro lei è un sacco morbida È proprio piacevole apparezzarla Come Un po' dei capelli Come dei semplici capelli Proprio di quelli morbidi Ecco è così E dobbiamo Dobbiamo ancora imparare a conoscerla un pochino Ogni giorno fa qualcosa di nuovo E ogni giorno si affeziona sempre un po' di più Quindi Io spero che questo breve video di presentazione Mi sia piaciuto Mi sia piaciuto Ecco la cucciolina Io spero davvero che Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto Questo breve video Adesso mi sentirete solo da un orecchio Perché l'altro microfono è Dall'altra parte Ok ragazzi È stato un po' un video così Giustamente A me è un po' imprevedibile E ha deciso che dove fare In corna Non si sa cosa Quindi Adesso vi lascio Un po' di riprese di amiche In corna Chissà che cosa Giù nei commenti Scrivetemi Se anche voi avete degli animali domestici Cane Gatti Cricetti Ciò che volete E i loro nomi Il nome ami Non l'abbiamo scelto noi Come il nome aveva Non l'avevamo scelto noi Quindi Però Sono curiosa Io Quindi Penso proprio Penso proprio Penso proprio Penso proprio Si è giunta L'ora A B F Le L'u G E Augurarsi 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 Una Buona 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 Notte Buona Notte Sognidoro Good night Sweet dreams Buenas Noches Dulces Sueños Buon Nuit Buon Nuit Noches Ve tu Che Joghe� Gravy Ni inos Buonas Buona Noches Minécole Mi pastikini Grazie a tutti